Diciamo che l'unica sicurezza che c'era oggi, dati pochi allenamenti precedenti la partita, era la voglia di giocare e di mettercela tutta. Tecnicamente siamo abbastanza bassi, non siamo granchi di giocatori, però ci impegniamo. Quindi se riusciamo a allenarci ancora tutti insieme fino a gennaio possiamo fare bella figura. Una squadra che si impegna, una squadra che comunque è in crescita, cioè riuscite ad allenarvi ogni settimana? Ogni settimana assolutamente sì, non tanto, 4-5 ore a settimana diviso in due giorni. Più magari qualche saltuario amichevole, perché poi oltre a questo è impossibile, anche se sarebbe bello, dati gli altri impegni dei ragazzi. Che ambizione avete per questo torneo? Non avere rimpianti.